benvenuti in questa nuova puntata di dipen io sono zap io sono palla e ovviamente palla era su dipen crimini io lo sapevo nell'altra intro già l'avevo previsto oggi facciamo una puntata incredibile perché dobbiamo festeggiare i 200.000 ascolti che abbiamo brillantemente non ci abbiamo pensato oggi siamo un po stanchi lo cambiamo dopo lo cambiamo perché siamo stanchi perché ieri abbiamo fatto le ore piccole durante la chiamata con i patrion giusto no palla oggi è attonito agli occhi per un vuoto ho dormito poco perché l'adrenalina per la chiamata con i patrion mi ha tenuto sveglio esatto è stata una chiamata incredibile ciao lucrezia siete ancora in tempo per prenotarvi per la prossima chiamata io secondo me non c'è già più posto non c'è già più posto dici anche perché abbiamo deciso che se non stai dentro i nove riquadri lì non puoi partecipare ciao a parte le cazzate no abbiamo superato davvero i 200.000 ascolti ci pensavo stamattina io sono andato proprio a controllare la data bravo bravo io no nessuno ha capito di cosa stiamo parlando di quando abbiamo fatto i 100.000 è infatti quanto ci abbiamo messo a fare i 100.000 rispetto ai 200.000 ci abbiamo messo quasi un anno a fare 100.000 e meno di tre mesi a fare i 200.000 quindi bene così vuol dire che stiamo stiamo andando bene che vi piace tranne di pengiallo tranne di pengiallo io tra l'altro avevo scritto una descrizione bellissima però l'abbiamo cancellata però l'abbiamo cancellata che avevo sbagliato podcast ma dopo dopo la mettiamo va bene la mettiamo nella prossima puntata ma il titolo di questa puntata è brand identity know how expertise marketing marketing lunch social innovation work lunch breakfast activators bravo fai pubblicità e tutte parole inglesi che non vogliono dire una sega ma che se non dici non sei parte della gente che sposta il grano giusto in realtà abbiamo mitigato questo titolo perché io avevo un altro titolo in mente geniale a proposito di quello che abbiamo parlato ieri sera in chat con voi no però del del seo no io ovviamente proprio di fare una puntata intitolata marcello ascani per riuscire a accattare qualche le tette di diretta le otta esatto esatto che sarà la prossima una puntata incredibile da non perdere esatto ciao martina grande che poi la cosa la cosa interessante è vediamo quanto ci mettono a denunciarci secondo me molto poco ma in realtà io oggi non vorrei parlare male di marcello ascani e già questa è la notizia perché quando metto marcello ascani non voglio parlarne male anche perché prima o poi uno che ci ascolterà ci metteva una storia non credo però o magari se riusciamo a fare un listing di quelli belli belli potenti secondo me sì no ma io non voglio di salarci ma non mi faccio un cazzo di salarci no anche a me però farebbe comodo al nostro nostro le nostre statistiche no ho pensato l'altro giorno perché un paio di giorni che non so perché youtube mi manda qualche video in più di marcello ascani si vede che ho cliccato qualcosa di strano non voglio sapere su che sito l'hai cliccato su youtube su youtube e quindi mi sta l'algoritmo mi sta tempestando i video di marcello ascani contanto che ne fa uno al mese e però io non ne ho visti mai che quindi è un sacco da recuperare e ho fatto un ragionamento su marcello ascani cioè in realtà non proprio su marcello ascani sulla vita sì sul brand brand image management breakfast lunch no breakfast work breakfast brand equity brand image engagement social networking a proposito di queste minchiate no non è vero praticamente ho pensato quando fai tutto il giorno io ho fisso un foglio excel con dei numeri poi i numeri si rivelano sì e questo è un po la descrizione di tanti quanto guadagni il lavoro di nostri amici 4k 4k come le videocamere che stiamo per comprare incredibile oggi oggi è faticosissimo fare la puntata no allora entriamo in puntata stiamo cazzeggiando da troppo tempo ho pensato il fatto di aver avuto successo in un ambito no ti dà il permesso di sentirti arrivo non neanche arrivato ma esperto un po in tutto in quel in tutto quel mondo e sono partito da questo ragionamento proprio da marcello ascani questo non vuole essere come dicevo prima una puntata di dissing a marcello ascani ho preso lui come esempio perché è stato lui a scatenare su youtube la mia riflessione ma marcello ascani è diventato famoso nel periodo roseo di youtube no con delle robe che non c'entrano niente faceva prima i disegni dove fumettava la sua vita poi ha cambiato ha iniziato a fare un po di intrattenimento e adesso si è spostato sulla finanza crescita personale e mi chiedo mezzo mezzo guru esatto quello che la sa ma non te la dice ma ti fa capire che la sa esatto ciao pietro grande ciao pietro e questo è il punto no che volevo trattare oggi cioè il fatto di aver avuto probabilmente sei stato bravo a fare quello che hai fatto perché io toglierei probabilmente non è che tutti quelli che hanno iniziato a fare youtube nel 2014 adesso hanno due milioni guarda noi esatto e però allo stesso tempo non puoi non dire che non hai avuto culo cioè nel senso ci vuole anche quello esatto ci vuole anche quello ma riportiamo su di noi per non fare il dissing a marcello ascani che non mi interessa se noi domani ci svegliassimo e guardando le statistiche vediamo un milione di download palla intanto ha deciso di fare di formatare il computer mentre è già la puntata già è difficile che oggi non c'ho voglia stavo dormendo lui non dice un cazzo e quindi no va bene io lo dico dopo alla fine dico una frase che ho pensato questa notte che devo dirla c'è un concetto più una frase che ho pensato che ho sentito l'altro giorno mi è piaciuto e lo è e poi io tienilo per la fine così li teniamo con l'hype io sono molto hypato per questa cosa sarà una cagata comunque metti che domani ci svegliamo ci abbiamo un milione di download questo ci renderebbe il guru del podcast perché io non penso cioè non è che l'indomani mi metterei a fare i corsi su come diventare il più grande podcaster del mondo te la spiego io allora allora questo è interessante un po' sì però cioè secondo me un po no allora io sfido prendere 100 per 100 podcast che che ha non ho idea di quanto di quanti podcast aprono al giorno però immagino tantissimo un bel po no e e sfido quante in un anno fanno 10.000 download 100 non lo so allora io voti a proposito di questo te lo dico perché avevo visto una statistica e con i nostri download dell'anno scorso quindi 100k 120k no? sì 100 qualcosa eravamo nell'anno tra il 5% meno del 5% di quelli che aprono il podcast ok praticamente il 90% sono quelli che fanno meno di 2.000 tipo ascolti all'anno quindi noi non siamo esperti di niente ok però è evidente perché penso che sia evidente che nell'ambito podcast per quanto non è detto che se domani apriamo un altro podcast che non pubblicizziamo che non è non è detto che faccia quei numeri cioè questo non è che ci rende però evidentemente abbiamo trovato una formula che piace e io non sono molto d'accordo su questo anche perché se no a quest'ora non avremmo 200.000 ascolti non festeggeremmo oggi 200.000 ascolti ma il milione dato che abbiamo tanti podcast e io stesso sicuramente saprei dare dei consigli a qualcuno che deve iniziare adesso ma secondo me non esiste la formula magica per avere successo nei podcast o in qualsiasi altro ambito no e tornando a marcella scani è chiaro che lui adesso guadagna una sborda di soldi e ha successo in quello che fa ma probabilmente se avesse iniziato oggi a fare youtube o avesse iniziato oggi a fare finanza non sarebbe nessuno se non culerebbe nessuno e non non avrebbe neanche da dirti nulla che tu non sai però secondo me è sbagliato il focus del discorso cioè non ti spiego cosa penso io su marcello ascani cioè se marcello ascani che tra l'altro è uno che a un certo punto io lo seguivo abbastanza assiduamente si è messo a vendere qualsiasi cosa già aveva un web seminar tutto quello che era web più qualcosa lo vendeva in realtà 250 dollari patron cazzi e mazzi se marcello ascani mi dice come creare una community come creare engagement come sviluppare un profilo instagram come sviluppare un canale youtube io mi sentirei de ascoltarlo poi non me ne frega niente perché a me di instagram non mi interessa tutto quanto mi viene un po più difficile ascoltare una persona che mi parla di finanza investimenti queste cose quando in realtà è lui il primo che ha fatto tanti video dicendo io non studio non ho studiato non sono università non mi interessa leggo dei libri e da quelli te la spiego esatto che è come se io ti dicessi non ho studiato medicina ho letto dei manuali e ti do la mia puoi farlo ovviamente perché posso fare io posso comprare i libri che tu usi no perché penso non è che sia serva un brevetto per comprare quei libri posso leggermi e posso essere intitolato ad avere un'opinione ok però è sempre lì il problema lui in questo momento ha un'opinione non tanto perché è strutturata da un'esperienza in quell'ambito ha un'opinione perché ha mezzo milione un milione dieci milioni di persone che lo ascoltano e che quindi rendono quell'opinione forte ma il problema è quello cioè lui secondo me sbaglia quando dice e poi ti faccio anche un altro facciamo anche un altro ciao Bruno un altro youtuber che dice la stessa cioè che dice cose molto simili lui sbaglia quando dice secondo me la finanza si come si fa come non si fa che è basato su una sua esperienza derivato da una lettura di alcuni libri scelti da lui sì e quindi è molto autoreferenziale come esperienza infatti io su questo sono anche d'accordo ma anche se scrivesse un libro su come creare la community non so se mi fiderei tanto perché lui l'ha fatto in un altro momento quando instagram non esisteva quando era molto più facile probabilmente ma magari non era più facile ma era diverso cioè il meccanismo era proprio diverso ma lo stesso instagram oggi non è lo stesso instagram di due anni fa cioè sono cambiati gli algoritmi probabilmente oggi uno che inizia oggi che ha successo tempo un anno ha più informazioni da darmi rispetto a uno che l'ha fatto cinque sei anni fa quello sicuramente però è indubitabile come un ragazzo che io non ho idea di quanti anni abbia più giovane di noi ma è tipo a quattro cinque anni meno di noi che esce dal liceo che è finito male non studia e costruisce cioè il video sui suoi guadagni noi parlavamo l'altro giorno una società che ha fatturato quest'anno 250 mila euro 150 mila euro solo su instagram cioè comunque una roba della madonna penso che comunque meriti di essere ascoltato perché evidentemente è un esempio anche per i suoi dei coitanei lui secondo me veicola male il messaggio dello studio perché sembra sì ma studiare non serve a niente tanto che è lo stesso messaggio che ha veicolato insomma è malissimo quello quello che fa le recensioni ragazzino fa le recensioni della apple andrea andrea bentivegna che è un altro che è black geek che si è trovato a 15 anni 16 anni a guadagnare 3 4 5 6 10 mila euro al mese quello che è beato lui è tutta invidia non è non è una critica no ma in realtà neanche quella marcia la scania no no assolutamente no no ma io questo e a un certo punto lui finisce il liceo ha un suo lavoro ha una sua attività youtube e giustamente decide di non andare in università in modo cosa che assolutamente comprensibile che avrei fatto anch'io no no assolutamente comprensibile però poi fa un video dove dice come la scuola non si non è che la scuola non si sa tutte le delle che però sono delle banalità clamorose e quindi a me non piace questa questo ergersi a tuttologi perché si sa che di tuttologo ne esiste solo uno che è palla esattamente cioè o sei tuttologo ma lì nasci tuttologo è genetico di sei tuttologo e quindi hai un'opinione su tutto ma se non è illuminata se mi permette l'opinione su tutto ma devi illuminare non solo te stesso ma anche le tenebre intorno a te esatto e su questo sono d'accordo secondo me lo studio è imprescindibile dal successo per quanto perché dipende poi cosa intendiamo con successo cioè diventare ricchi secondo te avere successo no no assolutamente però il lavoro crea sul lavoro da solo da lavori per te come come per esempio a scani che si è creato sul lavoro che vuole lui lavora da solo viaggia per il mondo ha un lavoro dove non si ammazza di lavoro guadagna bene e ha una popolarità anche di un certo tipo secondo me è aver successo in quel senso voglio dire la cultura non so perché forse vediamo stiamo parlando del successo come qualcosa che gli altri ti affibiano cioè nel senso se io ti vedo che sei diventato ricco che viaggi allora penso che tu abbia successo secondo me però il successo è qualcosa di molto più personale io mi sento una persona di successo esatto anche se non guadagno sono io che devo sentirmi una persona di successo e se per il mio successo io pretendo da me stesso che la cultura faccia parte del mio successo vince la super enalotto domani non ti rende successo assolutamente il problema è che oggi come in tutte le cose il successo tutto quello che fai è finalizzato a un ritorno economico ma non solo economico anche sociale di popolarità di notorietà e quindi è chiaro che da quel punto di vista lui poi possiamo fare tutta una pipa sul successo che cos'è il successo che cosa non è il successo ma io sono convinto che Marcello Ascani sia una persona di successo anche secondo lui perché comunque fa una vita che si è creato da solo che non gli ha dato nessuno che si è creato dal nulla quindi sicuramente con delle doti dove obiettivamente sfido chiunque a dire non vorrei in parte avere una vita come quella di Marcello Ascani il problema poi secondo me è il delirio di onnipotenza che prende queste persone cioè che si sentono a un certo punto in grado di fare qualsiasi cosa e quindi di dire la finanza il marketing come si fa su Instagram cioè su Instagram loro secondo me invertono le cose cioè loro non è che sono forti su Instagram perché si sono inventati qualcosa loro hanno una community gigantesca creata da un'altra parte negli anni è stata portata su Instagram e adesso un'azienda gli dà la magliettina ma non è che serve una dote esatto e torniamo al punto di prima cioè io non penso che se Marcello Ascani domani non fosse più Marcello Ascani ma fosse Luca Palavidina, Andrea Zappia aprisse un profilo Instagram o un canale YouTube sicuramente farebbe fatica farebbe fatica e secondo me vabbè però la contingenza che ti fa avere successo ti faccio un esempio su di noi così non li stiamo anche se non stai nissando nel senso che io ripeto secondo me Marcello Ascani a me non sta praticamente simpatico però è uno che c'ha i coglioni perché comunque si è creato un impero tra virgolette non un impero finanziario però un impero di attività da solo parliamo su di noi però il fatto è che continuiamo a nominarlo perché secondo me lui è proprio l'esempio più palese di quello che voglio sì 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 assolutamente no noi in un anno normale quindi senza covid non è detto che avevamo fatto 200.000 download in un anno perché? non è detto e non so neanche se oggi chiudessimo cioè rifacendo lo stesso discorso di Marcello Ascani se domani riaprissimo di pen crimini, di pen giallo non so se saremmo arrivati a questo punto tra un anno assolutamente voglio dire è stato tutto un insieme di cose compreso il culo compreso la settimana inizio del lockdown che tutte le puntate sono andate bene in fila e io non mi sentirei neanche di dire non so un esempio adesso sto facendo l'altro podcast è chiaro che io ci metto la mia esperienza di quello che ho imparato a fare ho imparato a montare ho imparato a usare il microfono ho imparato ad usare speaker tutte queste cazzate qua ma non avrei mai la superbia di dire oh dammi a me il podcast che domani c'hai mille download day one senza che ci conosci nessuno cioè non è replicabile hai capito? è quello che sto cercando di no non è replicabile il metodo cioè non è però è replicabile sono replicabili delle macro idee ad esempio ed è replicabile l'idea di avere un'identità precisa cioè l'idea di essere riconoscibile cioè ci sono delle cose che sono replicabili poi sono d'accordo che la puntata in sé non è replicabile e il culo del lockdown però ci sono delle cose cioè ieri sera parlavamo mi chiedevano se ascoltavo gli altri podcast di crimini no? e che dico di no perché obiettivamente a parte Lucarelli e a parte romanzo che mi dà come si chiama quello? Blue Note quello famoso Demoni Urbani Demoni Urbani gli altri possono chiamarsi in cento modi diversi ma non mi restano in testa perché per me hanno un'identità debole quindi per esempio ci sono dei macro concetti su cui uno deve lavorare perché Marcello Ascani il suo video lo riconosce le luci le inquadrature le tutte le è un video molto fighetto il suo in modo di parlare esatto Slim Dogs è un tipo di video che non può anche se non sai che sono non hai letto il titolo sai che sono loro proprio per come è fatto il video quindi secondo me ci sono delle macro aree su cui si può lavorare ma infatti quello che dicevi tu prima secondo me invece si può replicare il metodo ma non è detto che abbia successo di nuovo certo e quindi tutti questi corsi tutti questi guru che ti raccontano che con il metodo magico fai centomila iscritti su Instagram una settimana sai qual è il mio problema su questa non ho allora lì secondo me si vede da due cose che è il mio problema con Marcello Ascani io ogni volta che vedo un Marcello Ascani penso tra dieci anni che non può si rinventerà ovviamente no certo ovvio sicuramente cioè che non si è ancora a fare i video a Bali sono d'accordo però mi chiedo semplice tra dieci anni dove magari Instagram non esiste più e c'è un'altra cosa esatto piuttosto che YouTube non c'è più c'è Twitch o c'è un'altra cosa lui cosa sa fare nello specifico cioè quali sono le skill che ha preso ovviamente per esempio montaggio video pubblicità anche gestire una community così grande non è facile no no assolutamente quella è una skill una skill però non so io ho sempre io ti dico questo no da podcaster diciamo così siccome non può essere un lavoro cioè ti spiego io tutti i podcast che ascolto sono di gente che non fa il podcaster e che a tempo perso fa il podcaster tipo Joe Rogan cioè Joe Rogan nella vita fa tutt'altro è famoso per tutt'altro è ricco per tutt'altro e si è inventato il podcasting da solo perché praticamente se l'ha inventato lui e allora poi porta è interessante cioè perché Joe Rogan è cinque anni che è così famoso e perché Spotify gli dà cento milioni perché Joe Rogan porta nel podcast un'esperienza di vita di un certo tipo no e quindi non è mai troppo cioè non finiscono mai gli argomenti perché lui vive la sua vita fa il suo lavoro e poi li porta nel podcast io ho paura che tutte queste persone a un certo punto parleranno soltanto cioè diventerà troppo autoreferenziale perché se vivi soltanto quella vita lì non fai esperienze lavorative personali di un certo tipo ma già lo è in realtà cioè se guardi un video a caso su YouTube dopo tre secondi sulla home ti appaiono tutti i video uguali di YouTuber diversi no esatto quindi ormai è tutto è per quello che ti dico quanto dura ancora questa cosa? ma secondo me durerà per sempre ci sarà sempre questo trend ci saranno sempre persone nuove che cercano di inventarsi con lo stesso concetto un video diverso un podcast diverso e la questione del podcast secondo me il problema cioè il fatto che nessuno faccia il podcaster di professione non che non esistano però che non non sono così famosi come possiamo elencare un milione di YouTuber potrei elencarti forse un podcaster che mi viene in mente e è anche dato dal fatto che è ancora uno strumento di nicchia sì nel momento in cui diventerà il nuovo YouTube sicuramente ci saranno i podcaster YouTubers assolutamente però è proprio una questione per me di cioè il Marcello Scani è forte in quello che fa secondo me era molto più forte quando faceva intrattenimento cioè lì riusciva a capire la sua identità ora che si è messo a non so perché ha cambiato così strada probabilmente perché gli piace almeno spero per lui però secondo me nell'ottica di parlare di finanza primo non puoi essere uno che non ha studiato poi la finanza è un argomento talmente pericoloso talmente che può trarre in inganno chi non la conosce che secondo me è proprio esattamente l'argomento di cui non doveva parlare allora lui lui è un super appassionato di Matt D'Avella che è uno YouTuber americano che è minimalista che fa tutti i video di 30 giorni vegano 30 giorni così infatti lui fa soltanto queste cose più lui secondo me è molto bravo a copiare cioè lui prende delle cose che gli piacciono e che funzionano negli Stati Uniti le riporta in Italia questo per me è mancanza di identità non è identità perché se io faccio il podcast su di per religione uguale a le lezioni bibliche di Jordan Peterson da cui io trago ispirazione clamorosamente sì però una cosa è una traduzione cioè una cosa è una traduzione dall'americano italiano esatto mi ispiro a quella cosa perché mi piace poi provo a metterci del mio allora lì è un discorso un conto è fare esattamente le stesse cose e dar la tua opinione per esempio l'identità manca da quel punto di vista io sono d'accordo che per me non si può parlare di certi temi se non si sono studiati determinati temi faccio un altro esempio tecnologia ma non c'è un esempio di cosa di cosa si può parlare senza averlo studiato no però aspetta o mi fai intrattenimento spiccio dove mi fai un video con un quarto d'ora di rutto che mi fa ridere no però ti faccio un esempio su Galeazzi cioè Galeazzi non ha studiato Galeazzi è un architetto dato che bevo perché lo siete sì è un architetto che si è messo a fare recensioni sulla tecnologia ma la sua non è una recensione tecnica esatto è una recensione esperienziale no? allora mi sta bene che lui mi faccia questa cosa però siccome oggi su YouTube che poi è un po' il tema del video sono tutti esperti di tutto c'è chi va a mangiare c'è Giovanni Fois che mangia e dice fa le recensioni degli hotel scusami dei cibi giorni fa il secolo gigante che adesso che adesso si è montato la testa in maniera clamorosa posso dirlo parla solo di soldi di quanto guadagna in una maniera è un po' la Tesla per tua per tua soddisfazione e dal kebabbaro che recensisce il kebabbaro e quindi ci sono tutti esperti però ci sono effettivamente dei temi io finanzo non so nulla sai se pensa a zero è impossibile che leggendo un libro possa dare un'opinione su qualcosa perché ma così come sulla letteratura così come sulla musica o su mille altri argomenti è molto rischioso però allo stesso tempo loro non sono resi delle autorità dalla competenza ma dal successo perché è un gatto che si muorde la coda sì che però in molti casi è anche arrivato da un altro lato cioè capito non è che lui un giorno si è messo di notte si è messo a far trading la mattina aveva guadagnato un milione e ti spiega come ha fatto cioè lui faceva un'altra roba c'ha due non so quanti cazzo di milioni di iscritti sul canale non penso neanche no ci sono i 100 milioni vabbè avrà un milione di persone tra youtube e instagram allora non so se neanche di più qual è la connessione col fatto che debba prendere per vero quello che tu mi dici rispetto all'economia o alla finanza quando il fatto che tu ti fidi di lui ma è lo stesso motivo ma come fai a fidare cioè io non lo seguo perché non mi fido di lui ok però è lo stesso motivo per cui lui è nel video dove dice quanto è stato pagato no cioè su quanto ha guadagnato non quanto è stato pagato lui dice tipo 25 brand che lo hanno sponsorizzato sponsorizzato su instagram brand tra cioè da come so coca cola adesso non c'è coca cola però per dirti da coca cola quindi da una super multinazionale ha qualcosa di più piccolo perché evidentemente il brand sa che la fiducia che ispira Marcello Ascani il confronto del suo pubblico è tale per cui lui anche se dice coca cola incredibile e quindi quella fiducia è la stessa anche se è sbagliato come concetto perché un conto è dire bevo la coca cola e dico che mi piace allora lì non è che poi si andrà torto a ragione mi piace dice che la coca cola gli dà il grano e lui la pubblicizza cosa che io farei subito un conto però è ascoltarlo quando mi parla di tematiche che non conosco però che non conosce nel senso che non ha studiato però aspetta faccio un esempio anche su di me uno potrebbe tranquillamente dire secondo me ha ragione ma perché palla legge delle sentenze commenta delle sentenze parla di sentenze quando non è avvocato non è non ha studiato di giurisprudenza non è nessuno in quest'ambito per appunto definire per parlare di un crimine il problema secondo me è come ti poni lui si pone dicendo io non ne so niente però ha una rich talmente grande che secondo me ogni tanto è borderline quando dice no ma la scuola l'università è tutto il tempo buttato cioè non lo so io non so se effettivamente ha detto è tutto il tempo buttato perché come hai detto non lo seguo quindi non ti so dire se nel caso davvero avessi detto una roba del genere secondo me sarebbe da da criticare però comunque anche sulla questione di pen crimini eccetera eccetera tu dici non sono un legale quindi perché mi parli di crimini non vuol dire cioè è una questione diversa tu non stai vendendo un corso no non stai dicendo guarda che devi ascoltare di pen crimini perché io so com'è andata e ti spiego a te che sei stupido come funziona la cassazione non è quel punto cioè di pen crimini è intrattenimento quindi è chiaro che io parto da delle cose che posso non sapere indagarle e poi raccontarti sulla storia ricamarla anche per lui è intrattenimento cioè ma il problema è che quando parli di finanza non stai più facendo il solo intrattenimento cioè stai dando una speranza a una persona perché ti spiego ho fatto questo ragionamento perché ho visto un suo video tra l'altro bello interessante sui santoni i guru sai quelli là che ti vendono il corso vieni ti spiego come diventare ricco lui ti spiega come capire se uno è una farsa o se è un corso vero e il video era fatto molto bene allo stesso tempo però ho pensato che in parte quel santone quel guru era anche lui cioè nel senso se tu sei diventato famoso per un altro motivo perché sei qui a parlarmi di finanza fammi un corso di come diventare youtuber saresti più credibile e invece sei in una situazione di superiorità economica e possiamo dire anche sociale o comunque di visibilità e sfrutti questa cosa non è che sto facendo con senso malevolo non dico sfrutti in senso malevolo però comunque sei in quella situazione dove qualsiasi cazzo di cosa dici la gente ti ascolta ok e la stai utilizzando per portare avanti la tua brand identity social media sharing marketing chi ti dà questo diritto come fai ad ottenere questo valore secondo me gran parte di questo valore ti è dato da persone piccole banalmente di età probabilmente inferiore ai 16 anni che ti seguono e se c'è qualche adulto che ti sta seguendo perché spera di diventare come te non ci arriverà cioè non gli stai dando nessuno strumento in più sono d'accordo a metà cioè io sono d'accordo che Marcello Ascani di turno che parla di finanza sia un po' così anche perché poi è pieno di gente che parla di finanza su youtube anche qualificata il problema è sempre quello cioè tu secondo me molta gente guarda Marcello Ascani perché gli piace Marcello Ascani e quindi parlare di finanza parlare di gatti parlare di podcast parlare di quello che è cioè a me allora è lo stesso a me fa ridere ti faccio un altro esempio stupido tutti gli youtuber che a un certo punto sono andati tutti su twitch no? sì cioè tutti i youtuber iniziano a vedere che youtube non paga più twitch paga tantissimo e si trasferiscono e io ero convinto che quel trasferimento li avrebbe ammazzati perché cosa c'è di più chiaro no? perché poi non hanno detto perché qualcuno avesse detto oh cazzo pagano il doppio no tu ti dice no non mi piace più fare video mentre lo stream la chat mi mi stimola mi stimola sono più sono più motivato sono più motivato la relazione col pubblico e poi la gente li segue esattamente come prima ma forse anche di più e questi adesso hanno una doppia entrata alla fine è quello secondo me tanto cioè oggi soprattutto se hai il tuo lavoro non guardi in faccia niente cioè secondo me Marcello Ascani devi fare intrattenimento lui fa intrattenimento viene eseguito perché Marcello Ascani se parlassi della Bibbia e uno dici cazzo ma non sei un teologo non sei nessuno come faccio io se parli della Bibbia chi cazzo sei per parlare della Bibbia? eh ma non so cioè la finanza mi sembra proprio uno di quegli argomenti per cui dire ma chi cazzo sei per parlare di finanza a spiegare a me come gestire i miei soldi è come se parlassi di medicina tu hai 16 anni eri ricco perché sei andato bene su YouTube cioè grazie al cazzo no? che adesso vivi a Bali i giri e ogni mese cambi città no però se diciamo che si mette a parlare di medicina no? nel culo no e dice e dice che la vitamina C previene il covid che diciamo che è scientificamente falso o anzi dice qualcosa di un po' più border un po' più nell'ombra adesso non mi viene in mente qualcosa però è una roba così che l'omeopatia è scientificamente provata ok dice una roba del genere tu rezi le orecchie però sicuramente i numeri li fa lo stesso sicuramente lui ti dice io non sono un medico metto le mani avanti non sono un medico ti dico la mia opinione e alla fine dire che non sei un cazzo prima di dirlo non ti permette di dire qualsiasi cosa specialmente se sei in una posizione di visibilità allora possiamo possiamo parlare del fatto che è giusto o sbagliato che persone che hanno una reach di quella di quella portata possano dire quello che vogliono siccome questo è un argomento assolutamente siccome questo è un argomento molto interessante ed è il motivo per cui mi ero incazzato su quella puntata di Muschio Selvaggio esatto cioè secondo me persone che hanno visibilità così grande devono stare molto attenti a quello che dicono soprattutto su cose di cui non hanno idea sì soprattutto su cose pericolose perché finché tu mi dici che Burger King secondo te è più buono anche se non lo sai ovviamente ovviamente certo ma infatti ti faccio ti faccio un esempio una volta stavo guardando Space Valley presente sì non mi piacciono tanto neanche a me ma stavo guardando non ci piace nessuno stavo guardando un video perché hanno invitato Murvutu che è un rapper italiano che è un professore di storia e filosofia al liceo e e l'ha invitati e a un certo punto Dario Matassa quello che c'ha il podcast quello sì ce l'hai presente adesso faccio vedere il coso un supportato aspetta ma perché nessuno vuole collaborare è incredibile Dario adesso vi faccio vedere il podcast questo qua secondario ah sì sì ho capito chi è lui che è uno che ha scritto un libro che è quello che ha lasciato poi Space Valley che è uno che se la sente parecchio dice a Murvutu perché secondo me gli dice stanno parlando dei ragazzi a scuola che sono più fragili loro alla nostra età sono un po' più fragili no Murvutu parla tutto quanto e lui dice perché secondo me Dario dov'è il professore nel 2020 nel 2019 non deve più essere soltanto un professore ma deve fare da psicologo dall'altro della sua esperienza cosa che qualsiasi persona che ha lavorato un'ora a scuola sa che è assolutamente il contrario infatti Murvutu lo ferma e dice no no assolutamente no cioè sono due cose completamente diverse e gli ha fatto capire come dire senti tu parla del salottino qua cosa mangiate le troiate qua però di cose serie non parliate e l'ha fermato subito a me quella scena è piaciuta tantissimo l'avevo fatta vedere anche a scuola una volta l'anno scorso perché è esattamente il punto finché si cazzeggia tutti i libri di cazzeggiare ma quando stai parlando di cose delicate per esempio lo stato mentale dei ragazzi a scuola e noi io ci scherzo sono il primo che ci scherza sempre però un conto è scherzare davanti a una birra io e te un conto è su un podcast come questo che non ascolta nessuno un conto è avere un milione di persone esatto ok e quindi quando loro dicono perché i professori devono ascoltare i problemi dei ragazzi perché e quindi fai lo psicologo ma in una maniera più assoluta no e ci sono tutti dei motivi per cui no e questo secondo me è un grande problema della nostra società futura nel senso che è la prima volta che ci troviamo di fronte all'influencer dove la competenza non è più necessariamente relegata al tecnico ma è relegata agli influencer e alle loro opinioni aspetta e al tecnico perché anche i tecnici ovviamente hanno un'influenza ma l'influenza degli influencer scusate il gioco di parole è talmente grande che va a cioè esempio Conte chiama Ferragni e Fedez per dire dite di mettervi la mascherina perché se lo dice il virologo di sto cazzo non lo ascolta nessuno e quindi queste persone che io sono sicuro a essere in difficoltà perché io dico senza nessun problema di avere delle opinioni del cazzo su un sacco di cose e se qualcuno mi intervissasse tutti i giorni no? che è il mio sogno qualcuno tutti i giorni mi intervisi per ore scoperto perché abbiamo aperto il podcast anche io direi un sacco di cazzate ma senza nessun freno inibitore no? se mi becchi nel momento giusto senza nessun freno inibitore e quindi figurati se però al posto che dirlo a te lo dico a 100.000 persone 200.000 persone un milione di persone 10 milioni di persone il problema è quando a questa cosa al posto che Dio è la limine ci vado a lucrare secondo me non è neanche tanto il ci vado a lucrare secondo me è più una questione morale etica cioè in questo momento ed è la cosa che mi ha fatto incazzare anche quando ho mandato il messaggio a quelli lì dei straight gorilla questa cosa veramente mi fa imbestialire perché se tu sei sono amici tuoi sono amici miei sì sono amici talmente amici che gli ho pagato 800 euro di palestra che pesa il coglione mi fa troppo incazzare quando parli a sproposito e puoi parlare a sproposito al bar noi possiamo parlare a sproposito davanti alla birra quando siamo dietro non ci ascolta nessuno possiamo dire quello che vogliamo non se ho un milione di persone che mi sta ascoltando no perché sai quello è il problema che le cose che hanno detto gli straight gorilla le ho dette anch'io in altri contesti no quando pensavo a tutti i soldi che ho perso che ho perso no ma la questione non era il problema del coglione il problema è che loro ti hanno detto che mettevano il chip che ci vogliono fare ti hanno chiuso tutto per mettere il chip tu ti puoi lamentare quanto cazzo vuoi che ti hanno chiuso la palestra perché ha un tuo diritto lamentarti ha un tuo diritto esprimere la tua opinione specialmente se sei in un momento di difficoltà e questo è un altro discorso interessante però non puoi dire cazzate scientifiche solo perché hai 700.000 iscritti sul tuo canale cosa vuol dire che abbiamo il microfono acceso raga avete il microfono acceso sì sì abbiamo il microfono acceso forse sono un po' bassi forse è quello di zap così meglio non so no però anche lì il fatto che tu abbia il diritto di dire la tua opinione innanzitutto non ti rende obbligatorio dirlo e poi bisogna anche ricalibrare la dose su quanto la tua opinione influenza le persone perché la mia opinione influenza nessuno sostanzialmente l'opinione della Ferragni influenza tantissime persone e quindi è chiaro che pur il valore della vita della Ferragni il mio è lo stesso cioè se due esseri umani e quindi valiamo esattamente uguale però è evidente un po' le potrebbe dire che la mia opinione vale come quella della Ferragni cioè ha l'influenza di quella della Ferragni giusto? per quanto la Ferragni ripeto un essere umano che vale come tutti gli altri 7 miliardi e mezzo di persone nel mondo ma è evidente che una sua parola giusta ha un valore inestimabile molto più della mia una sua parola sbagliata ha lo stesso modo e quindi siccome poi i cambiamenti arrivano talmente veloci è fortemente pericolosa e non abbiamo modo di proteggerci perché non esiste una legge contro le cazzate cioè se domani Chiara Ferragni si sveglia e dice oh domani tutti a Roma in piazza rompere i coglioni contro il lockdown contro il governo cioè capisci che sicuramente saranno almeno 50.000 persone in piazza 50.000 no ma secondo me sì per quello che dico che io penso io sbarrellerai tutti i giorni a caso per vedere cosa fare quindi non seguite palla cioè io direi cose a caso completamente cioè tipo uccidiamo ecco no uccidiamo no no ma a caso sai che se avessi questo potere io lo sfrutterei per far iscrivere la gente a Patreon invece geniale a me lo metto un cazzo io direi solo cose a caso domani si piscia dalla finestra allora chiudiamo questa puntata assolutamente inutile esatto con i miei pensieri esatto della cazzata sentiamolo ah perché sta ragionando no perché scritto una battuta perché stavate insultando una cavallata di persone quindi avete il microfono ma non è ben insultato io ho letto c'è lo scani cazzo è beato lui che si è creato da solo no ho letto una roba e ho ascoltato una roba non mi credo se l'ho ascoltata o l'ho letta però forse l'ho ascoltata e poi sono andato a cercare e quindi poi l'ho letta diciamo così ma sai che questo secondo me è il punto focale della questione no si che dici che ho fatto double check double check praticamente le persone sono molto pessimiste in genere cioè il singolo è molto pessimista più si allontano anzi non è molto pessimista cancelliamo il singolo è più pessimista verso ok la mia testa è chiaro ma è finisci il concetto che poi magari allora tu immagina una come si chiama quel frutto che peli a strati la cipolla l'aglio no che cazzo stai dicendo sei drogato sai il coso sai il coso che peli a strati la banana no no quello che fa la cipolla la cipolla che ha i vari strati agli strati tu immagina che al centro c'è il singolo questa è una roba seria ma perché non abbiamo acceso Twitch avremmo fatto i milioni oggi è una roba seria cioè all'esterno c'è il mondo poi non so c'è lo stato poi c'è la città poi c'è la famiglia poi c'è il singolo ok niente di particolarmente rivoluzionario la cipolla è stata esatto e una cosa no questa è una cosa seria seria sì che il singolo è più pessimista verso l'esterno verso nel futuro ovviamente cioè nel senso pessimista per come vede il futuro verso l'esterno che verso l'interno cosa voglio dire vuol dire che se tu chiedi a una persona è convinta che il mondo sia per finire c'è il riscaldamento globale i vaccini i covid così poi se guarda il suo stato quindi fa un passo in dentro è più positivo rispetto alla complessità del mondo poi se guarda la sua città è ancora più positivo rispetto allo stato magari ha delle critiche verso lo stato ma verso la sua città meno poi o verso non so la sua provincia sì la sua famiglia invece va bene no la sua famiglia è abbastanza verso di sé nessuno ha quasi nessuna parte persone depresse però c'è una condizione mentale che chiaramente inibisce un funzionamento normale mentre verso di sé tu normalmente hai una visione del futuro non magari rosa dicendo però tendenzialmente positiva quindi è interessante questa cosa mi ha colpito come effettivamente tutti noi cioè io ho una visione del mio futuro non dico wow però positiva cioè nel senso dove mi aspetto delle cose belle non è che mi aspetto di morire esatto mi aspetto delle cose positive allo stesso tempo anche per la mia città posto in cui vivo non mi aspetto un futuro negativo per la mia famiglia per il mio stato effettivamente non è che mi aspetto delle cose per il mondo a pensarci dici cazzo covid quella marcella scani esatto e quindi in realtà si sono una serie di psicologi si sono chiesti da dove provenisse questa cosa cioè siccome hanno dimostrato come era attraverso persone culture genders così ma c'è una risposta perché sono intrippato come una no no c'è una risposta ed è un gatto che si morde la coda perché la nostra visione di noi stessi non ci viene fornita da nessuna autorità esterna cioè perché nessuno nessun giornale nessun media mi dice come sarà il mio futuro di Luca Pallavidino perché nessuno si occupa mentre la visione dello stato del mondo degli altri stati viene filtrata attraverso dei mezzi di comunicazione e soprattutto scoprono che siccome l'essere umano è molto più ricettivo alla notizia negativa che alla notizia positiva questo perché abbiamo biologicamente abbiamo bisogno di sapere prima una cosa negativa che una cosa positiva perché sulla cosa positiva non devo essere preparato se mi arriva se adesso uno arriva e entra in casa e dice evita 3 milioni di euro anche se non ero pronto bene lo divento mentre se mi dice che adesso mi spara sarebbe stato meglio saperlo prima perché ok e quindi cosa succede scoprono che cioè scoprono non è che scoprono in realtà è una cosa anche abbastanza chiara però lo mettono più per iscritto che tutti i mezzi di comunicazione siccome noi siamo molto più ricettivi sulla notizia negativa e quindi i vari clickbait sono sempre negativi sì ci ricordiamo sulle robe negative e la tua opinione del mondo è formata su delle cose negative e quindi se tu leggi perché poi hanno fatto un esperimento interessante cioè che dicevano che nello stesso mese l'hanno fatto negli Stati Uniti questo esperimento 154.000 persone nel mondo erano state tolte dalla condizione di povertà assoluta quindi 154.000 persone avevano accesso a acqua pulita cibo elettricità quindi una cosa fighissima allo stesso tempo avevano messo un'altra notizia per cui dicevano che ma un numero ridicolo tipo 80 persone erano state morse da un cane piuttosto che una roba stupida la gente si ricordava soltanto quella roba lì e quindi è pazzesco come la nostra percezione del mondo sia influenzata a un livello così profondo che non solo ci va a modificare la nostra opinione su un fatto politico di cronaca ma proprio sull'intero universo e mi viene in mente un bellissimo sketch di Bill X che è un comico morto nel 96 che mi ha sempre fatto morire perché dice guardate Bill X che non l'ha mai visto ad un certo punto lui dice io accendo la CNN e per un'ora sento bombardamenti guerra stupri tragedie poi apro la finestra c'è un parco bambini sull'altalena la mamma che abbraccia il bambino e i passerottini che cantano quindi c'è un distaccamento tra quello che però questo distaccamento che conosciamo è molto più profondo di così cioè va proprio a modificare la nostra percezione anche di noi stessi in un certo senso e quindi mi sembrava una cosa io voglio farci una puntata su questa cosa però non so cosa dire oltre a questo però in realtà è estremamente vero e ci sono anche delle dimostrazioni scientifiche infatti per esempio è presente tipo il castello della memoria tutte quelle tecniche di apprendimento sono tutte cioè quando tu crei il castello se crei un'immagine negativa la ricorderai quasi sicuramente se invece ti crei una storiella positiva dove c'è l'orsetto che cammina non te la ricorderai esattamente e poi volevo dirti un'altra roba geniale ma me la sono dimenticata e quindi è pazzesco come ah sì che a me succedeva questa cosa e l'ho percepita quando avevo l'iPhone è presente che nella schermata sinistra ci sono le notizie sì sì e c'era un periodo l'ultimo periodo che avevo l'iPhone che mi parlava solo di stupri tutti i giorni io mi alzavo la mattina facevo colazione stupro 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 e mi sta venendo veramente l'angoscia cioè stavo male alla fine l'ho concellato poi tu sei un bel bocconcino esatto no e a me invece ho ricordato quando ero piccolo ma piccolo avevamo una decina d'anni che ci sono stati due o tre stati dove sembrava io avevo questa percezione da bambino che fuori di casa cioè tu qualcuno lo veste ammazzare no no il Maple no no non qualcuno che avevo ma te lo giuro l'angoscia che stavo male che ci fosse un branco di pitbull pronte a uscire perché c'erano degli istanti che sembrava che un bambino che come conformazione fisica eri tu e quindi tu uscivi e poi la notizia era sempre stava giocando a pallone con i suoi amici Luca Mallavidino esatto giocava a pallone con i suoi amici quando dei pitbull grossi come l'arcangelo Gabriele gli hanno staccato la testa a soffrire e quindi io avevo questa angoscia e poi la cosa bella che avevo letto un articolo sai quelle cose su facebook stupide no esatto no 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 stupide che vanno a smentire delle cose e dicevano che in un anno non di pitbull ma ci sono mortali tipo sette situazioni in cui una persona muore perché un cane lo attacca in Italia sette in un anno però cazzo io avevo l'impressione che da un momento all'altro senza aver mai visto un pitbull e quindi questa cosa mi aveva molto colpito c'era infatti una avevo visto un documentario sugli squali che diceva questa roba no che tutti abbiamo paura lo squalo però in realtà è dato da Hollywood no dal film lo squalo ma in realtà gli attacchi di squalo mortali sono tipo due all'anno si si è pazzesca questa cosa mentre per esempio gli ippopotami in Africa ammazzano un mare di genere e nessuno se li fotte si si come gli incidenti aerei no però è bellissimo è un'altra cosa che mi ha interessato molto tra l'altro a 50 minuti mi non ce ne fevo un cazzo che di quanto effettivamente siamo molto più suscettibili alla notizia negativa che è lo stesso che ne parlavo l'altro giorno a scuola quando ho fatto questo discorso un po' decaffeinato sul voto negativo cioè se prendi 8 sei contento un quarto d'ora se prendi 4 sei triste un mese no perché comunque la notizia negativa ti influisce in un altro modo su di te e questa cosa però che è una cosa che sai non è che ho detto una roba strana ma applicata a strati quindi il singolo positivo sul suo futuro sul suo paese sulla sua nazione un po' meno sul mondo invece cazzo sembra che in Antartide figa ci sono i robinetti una settimana ci resta no sembra che in Antartide si sciogga ghiaccio a manetta covid la variante sudafricana napoletana adesso c'è anche quella milanese c'è la variante milanese ci sono tutte quindi dici cazzo eppure poi vai in giro ed è tutto normale quanto è bello il mondo quanto è bello stacchiamoci da dai tg e dai giornali no io non guardo nulla io guardo solo cioè guardo solo guardo pochissimo no io guardicchio ma ho imparato a non prendere tutto per vero no a me non me ne frega un cazzo vabbè è giusto per sapere cosa sta io ho deciso che non me ne frega un cazzo io ho deciso che non me ne frega un cazzo della politica cioè ho deciso che proprio quando c'è un argomento politico mi si spegne il cervello non mi interessa più niente fate quello che volete c'è Draghi c'è Napolitano quello che volete mettete chi volete l'unica mia fonte di informazione è Orizzonte Scuola che Orizzonte Scuola per chi ha studiato cioè per chi è nel mondo della scuola Orizzonte Scuola sa le cose prima del ministro eh sì la bibbia del professore cioè il ministro fa i decreti in base a quello che dice Orizzonte Scuola e io tutte le mattine ho questo rituale siccome la mattina già è dolorosa in quanto mattina in quanto risveglio mi leggo Orizzonte Scuola a letto questo rituale e stamattina leggo minchia brutta sveglia però credo che poi si chi di cattivo amore prendo la notizia come l'ho letta stamattina mi alzo tanto dopo aver dormito quattro ore più o meno perché cancellato il concorso no 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 peggio calendario scolastico Draghi scopre le carte si lavora scuola di pomeriggio nei weekend ed estate e di notte basta ma porca troia ma porca traia ma come cioè pomeriggio estate weekend ma porca eh sì che bello e poi ne ho letto un'altra assolutamente meravigliosa a questo proposito perché parla poi mi fa ah no devo fare un colloquio mi fa c'è cambiato lavoro no concorsi per insegnanti Bianchi che è il nuovo ministro dell'istruzione dice stabilizzazione temporanea che è uno simoro fantastico mi accorgo che quando leggo orizzonte scuola c'ho il cazzo girato eh beh poi vado a scuola e invece stai quindi c'è questo poi lo stipendio ti arriva incredibile i tardi vabbè i tardi però arriva sì poi arrivo lo stipendio sei felice due ore perché è una notizia positiva sei poco ricettivo però quando non ti arriva lo stipendio 200 euro a manetta anche se non ti serve a nulla non vi dico l'ultima volta che parla è stato al commercialista è stata una festa non c'era il covid quindi oltretutto l'ultima volta le commercialista mi sono arrivati i 1200 euro che mi hanno dato che hanno sicuramente sbagliato ma io li ho già spesi perché appena mi hai dato l'assegno l'ho già versato e quindi andate a fanculo se mi richiedete i soldi non ve li do il mio famoso contratto stipendio fisso variabile dice Bruno esattamente geniale cioè la stabilizzazione temporanea mi ha fatto troppo ridere che è un po' davvero il mondo della scuola cioè uno che ti dice è una paraculata no ma è bellissimo perché lavori weekend pomeriggio estate estate come è noto nei viceri c'è l'aria condizionata quindi non fa caldo poi al sud sta bene e in più c'è la stabilizzazione temporanea io ho trovato queste due cose cioè uno si alza la mattina un po' in difficoltà vede no ma infatti secondo me devi cambiare l'abitudine tra l'altro c'è un video bellissimo di Marcello Ascani che ti spiega come creare le abitudini no per creare una nuova abitudine secondo me questa è una di quelle che devi perdere no perché in realtà un'altra puntata che volevo fare forse più in Dipenscienza no però forse vabbè diciamo crossover crossover Dipenscienza è come in realtà una combo che i download vanno in negativo meno sei ascolti ma forse cazzo ci toglie mille ascolti ad ascoltare incredibile no di come in realtà le persone siano attratte non soltanto dal male ma proprio da tutta una serie di situazioni abitudini negative che poi ci piacciono tipo film horror no 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 molto peggio ma da una relazione cioè una relazione dove uno dei due viene menato costantemente no cioè perché noi tutti cosa diciamo la prima cosa che pensi su uno che mena la fidanzata cioè in che senso metti che arriva una nostra amica e arriva e ci dice che sta con un fidanzato perfetto no vabbè però lì entra in gioco anche la psicologia no no certo però il primo pensiero è cazzo vai via e poi ovviamente oppure vedi uno che ti dice non riesco a dimagrire no e vai a correre mangiare la mela no ok poi ovviamente è più complesso di così non parliamo di che poi ci dicono no ho detto che è più complesso di così che cazzo devo fare se dico che sono ciccioni e non va bene no no meno ho detto ciccioni in classe una no eh minchia burro perché dico a mia madre gli è arrivata una cosa di omofobia perché questa te la racconto off io volevo volevo chiudere visto che siamo a un'ora di nulla volevo chiudere con la ginecologa in seconda superiore che? no aspetta che si collega su Meet e fa vedere no e risponde alle domande che i ragazzi hanno fatto in maniera anonima quindi tenore io voglio leggere tenore della domanda io ovviamente ero fradicio dalla tensione perché non ho letto le domande tenore della domanda le dimensioni contano e lei risponde seriamente beh è una domanda interessante guarda che tanti ragazzini si fanno no io pensavo no ragazzi no io ho pensato cioè tu hai studiato 15 anni per fare la ginecologa quanti soldi ti han dato cioè io per 100.000 euro non andrei a parlare di sesso in una scuola di seconda superiore io sì secondo me ti diverti ti diverti se dici vabbè ragazzi se ci avete vabbè tanto avete 25 centi allora no invece le serie no beh dipende perché la vulva e le cose e la dimensioni il canale ok dobbiamo chiudere c'è un problema tecnico e chiudiamo no sì chiudiamo perché è andata lunga e va bene ragazzi si sta cagando addosso dai diciamola no è vero va bene grazie a tutti ci sentiamo su instagram non ascoltate questa puntata ciao 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 ragazzi grazie a tutti